Musica Incidente oggi lunedì 9 aprile in via Botticelli angolo via Mercadante a Torino. Un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoli proveniente da via Mercadante a sirene spiegate che si stava recando da un paziente si è scontrata con una Fiat 600 con a bordo due ragazze. L'auto si è ribaltata. Le due giovani sono rimaste ferite e trasportate all'ospedale San Giovanni Bosco, illeso l'equipaggio sanitario che si trovava a bordo dell'ambulanza, sul posto la squadra infortunistica della Polizia Municipale. Musica Musica